E' stato un grande campione del calcio, ex giocatore della Lazio. Un saluto per cominciare al pubblico e soprattutto agli ragazzi e ragazze che finisceranno lo stadio di Storzio. Buonasera a tutti, è il più dolore di questa comunicazione, è stato un po' di almeno sport, è bene in Italia sia la qualità di Storzio che è un buon mercato. Quindi sono sempre in questa squadra, sono sempre in questo mito, è un po' di almeno sport. Buonasera a tutti. Buonasera a tutti.